Prima tutti incollati davanti alla TV a fare il tifo per l'Inter e poi, se tutto va come deve andare, avanti Napoli alle 15. Sarà una domenica caldissima nonostante sia prevista pioggia, quella che i tifosi azzurri si apprestano a vivere. Dopo una lunga attesa, ieri intorno alle 18 è arrivata l'ufficialità. Napoli-Salernitana si gioca di domenica alle 15, subito dopo Inter-Lazio. E' questo il piano messo in atto dal CASM, seguendo le richieste arrivate dalle autorità cittadine di Napoli in vista della giornata che può sancire la conquista aritmetica del terzo scudetto della storia del club azzurro a 33 anni dal secondo titolo dell'era Maradona. La conferma è arrivata in serata dal prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine di un nuovo tavolo organizzativo cui ha partecipato anche il sindaco Gaetano Manfredi. Mi accingo, ha detto Palomba, ad adottare un provvedimento d'urgenza per lo spostamento della partita Napoli-Salernitana domenica per necessità pubbliche. Sarà probabilmente alle 15. La prima festa, se la Lazio non vincesse a Milano e il Napoli battesse la Salernitana, sarebbe allo Stadio Maradona dove già tutto è esaurito da tempo ma esploderebbe subito in tutti gli altri quartieri della città da Piazza Trieste e Trento, luogo tradizionale dei festeggiamenti, a Piazzetta Maradona, il nuovo luogo di passione sul calcio. Si è arrivati alla conclusione che auspicavamo, ha detto il sindaco Partenopeo Manfredi, illustrando le misure, concentrando nella stessa giornata le due partite di Napoli e Lazio. Una richiesta che abbiamo fatto per garantire il migliore utilizzo delle risorse in campo, Napoli deve dimostrare la sua gioia ma anche la sua capacità organizzativa. Soddisfatto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, prevedere è meglio che curare, ha detto, complimentandosi con le autorità per il dispositivo messo in campo.